Ciao ragazzacci, sono Amici825, siamo qui su Project I-Rise Un gioco che ancora deve uscire su Steam, come vedete qua c'è scritto Test Build, Confidential, Do Not Distribute Ok, mi hanno dato questa, sono quelli della Soma Sim Ma sono anche quelli che hanno fatto 1249 L'ho scoperto appena adesso, 5 minuti prima di fare il gioco Ho avuto questa chiave in anteprima, quindi Grazie, io l'ho vista da qui il 18, dico cazzo, devo avercela anch'io, devo avercela Possiamo fare New Game, New Scenario, ho fatto già i tutorial Facciamo uno scenario, questo qui è Devo difficoltà facile Ok, avviamo questo, Play Il gioco dovrebbe essere italiano, c'è scritto anche italiano Ma non sono riuscito a rendere l'italiano, quindi giochiamocelo così Allora, quali sono i miei obiettivi da raggiungere? Restore, quindi ricostruire, sistema questo edificio per avere un buon daily Quindi daily revenue sono le entrate giornaliere di 25.000 o più Ok, devo avere 25.000 dollari di soldi in entrate Poi devo fare 250 popolazione E poi devo fare il 7% di 30 prestigiativo Ok, è la fontana Ok, perfetto, ci siamo Allora, mettiamo in pausa Intanto vi chiedete che cazzo il gioco è Project I-Rise In Project I-Rise noi siamo un amministratore di condominio Niente più, niente meno Come vedete qua ci sono le basi, le fondamenta del nostro edificio Questa è l'entrata, il piano in cui si entra E questi sono tutti i vari negozi Come può essere un... come si chiama questo? Un fast food Come può essere una... no, Kathleen non mi interessa Una news stand, university news stand Quindi un'edicola, fast food, un fiorario Quindi ci sono un sacco di cose, flowers, un sacco di uffici Sono degli uffici, come vedete questi uffici sono tutti quanti messi un po' male Questo è un gioco un gestionale Sapete che io adoro gestionare Sempre ho giocato a gestionare da quando ero piccino, piccino, piccio E quindi vi faccio vedere Vediamo un po' se ci sono dei problemi Soddisfazioni, profitto Questi qua mi stanno facendo perdere dei soldi Dovremmo subito andare a vedere qual è il problema Poi traffico, là c'è un po' di traffico Elevator, noise, va bene Smell, c'è un po' di odore Un po' di puzzettina Grime, non so cos'è Grime Però va bene, facciamo off Allora abbiamo detto che il problema sono questi qua Andiamo a vedere in questi In pratica noi siamo degli amministratori di condominio Ecco, prendiamola proprio così Qua ci sono degli spazi libri dove andremo a costruire delle altre cose Ma vediamo qual è il problema Soddisfazione Dicono che il rent, rent sarebbe l'affitto, è troppo alto Ok, quindi dovremmo anche rinnovare questa unit Che adesso lo facciamo Però come si faceva a fare il rent? Il rent si faceva di qua, 2,30 Però è al 100% Quindi non interverrei su queste cose Non mi piacerebbe intervenire su queste cose Ah, forse sapete qual è il fatto Incominciamo a dirgli Qual è questo? No, scusa, questo No, unit report Questo Rinnova con 2.000 dollari Tutti i vari uffici Facciamolo subito Con 1, 2, 3 si va a velocità 1 Velocità 2 Ok Ovviamente si gioca tutto così Intanto loro stanno riavviando Cioè stanno sistemando tutto quanto Questo qui è rent, stuag Sono tutti che si lamentano Ma sapete perché si lamentano? Perché sono brutti secondo me Perché se voi andate a guardare il profitto Adesso questi qua li mettiamo Estetica, view Ok, perfetto Quindi noi siamo già qui Il gioco non è semplicissimo Dovete capirlo Infatti ho fatto il tutorial per capirlo Hanno già sistemato tutto, no Però questo ufficio adesso è Dovremmo pagare di meno Ma perché devi pagare di meno? Scusa Fermati un attimo Andiamo a vedere una Vediamo un po' Noi abbiamo Un Un'entrata di 1.000 Eh Operation cost 3.500 Non stiamo andando bene Stiamo in Stiamo perdendo dei soldi Perfetto Stiamo perdendo dei soldi Come sempre No, aspetta Cos'è che c'è scritto la 5.000? Start of day cash Vabbè Unit report Ok, vai così Vai così Quindi iniziamo a sistemare Tutti questi ufficetti Qua cosa c'è? Store room Ammazza È troppo alto questo volume Qua c'è una unità Per le fotocopie Va bene Perché alcuni uffici Hanno bisogno delle fotocopie Se voi non gli date Il gate in world down Non ti preoccupare Andiamo a velocità 2 Così loro iniziano a sistemare le cose Non capisco perché Non c'è nessuno Ok Budget Daily budget Entrate 1.000 Uscite 7.000 7.000 però Non ti preoccupare O spesso 7.000 Per riavviare Per rimodernizzare Per ripitturare Ridipiggere Tutti i sistemi Vedete qua Adesso questo qui Ok si arrabbia Però We like begin In high traffic area Loro vorrebbero stare In un high traffic area Dov'è il traffic? Però ci sono Insomma Qui c'è un tanto traffico Quindi non ti lamenta Cioè Meglio di così Non so che dirti Meglio di così Non so cosa fare Il gioco è un Gestionale Come già detto Quindi I gestionali A chi piace A chi no Però i gestionali Sono fatti così Quindi questo ufficio Adesso dovrebbero stare Più contenti Dovrebbero essere Più soddisfatti Anche perché Non li faccio Cioè Li faccio pagare Il giusto Giusto La giusta quantità Di soldi Ok Perfetto Quindi Abbiamo più 690 al giorno Ok Qua c'è Questa cosa È importante Lui vorrebbe stare In una zona Ad alto traffico Però più vicino Di così Non so dove metterti Più vicino di così Non saprei proprio Dove pezzarti Abbiamo appena avviato Questa cosa Sapete che facciamo? Facciamo anche Che iniziamo a costruire qualcosa Possiamo aggiungere Nuovi 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 piani Nuove scale Nuove sensori Building staff Ok Trash Store room Ok Ho capito Però io volevo mettere Un nuovo Elettricità Bulldoze Potevo mettere Un nuovo ufficio Ecco Potevo mettere Un ufficio Piccolo O uno grande E io uno grande Quasi quasi Non c'è lo spazio Ma mi piacerebbe Metterlo uno grande Aspetta Metti in pausa Something Ok C'è qualcuno Che si sta lamentando Click On any tent Ok Aspetta un attimo C'è qualcuno C'è qualcuno Che si sta lamentando Soddisfazione Questo Perché si lamenta Signora Fammi capire Rain Sto high Sapete che faccio Agli uffici Abbasso tutto un po' Gli abbasso le entrate Agli uffici Tanto ce li ho i soldi Uffici Abbasso al 90% Ok Quindi me lo fa Tutti gli uffici Fammi capire Adesso questo è il 90% No Come funziona la cosa Non avevo messo il 90% Si Allora fai 100% Cambia qualcosa 155 Si Cambia Cambia Se le faccio tutti quanti Non conviene Mi conviene abbassare questo 75% Vedete qua che si Si sente meglio la signora Dice Si 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 va bene Chi è che si lamenta Questo si lamenta Perché Rain E cazzo Ci piace essere una zona D'alto traffico Quindi altamente Trafficata Ci sono troppi pochi Pochi clienti Allora Cominciamo a abbassare Le entrate A 75% Questo qui sarebbe Un sim city In un palazzo Pensatelo un po' così Potrebbe anche essere così Io quasi quasi Metterei Qui abbiamo Dei punti Buzz Ok Tony address Appartement Ok Qui ci sblocca qualcosa Ancora queste cose qui Dei punti Non l'ho capito E qui abbiamo questo Che però Con uno non ci fa niente Perché ce ne servono Almeno 10 Almeno 10 Perfetto Io quasi quasi Piazzerei Un ufficio Più piccolo Lo piazzo anche qui Ok E vi faccio vedere Intanto chiudiamo questa griglia Vi faccio vedere Come si Tasto destro Vi faccio vedere Come si prende un nuovo Un nuovo inquilino Account office Legal office Legal office Questi ci pagano 115 170 170 è buono 170 Cosa vuole questo qui Però vorrebbe Elettricità E phone line Courier service Office supply store Eh però Io non so Se ho il courier service Vediamo se ce l'abbiamo Questo cos'è Courier ce l'abbiamo Quindi il corriere E il Cos'è che voleva più La signora Il tipo Lì del creative office Supply store Supply store Sì supply store ce l'abbiamo Dai Questo dovrebbe essere Copy center Office supply Sì ok Allora lo possiamo prendere Dobbiamo metterci anche Il La linea elettrica E il E il Telefono La linea elettrica c'è già Ma il telefono Non c'è Quindi portiamogli il telefono No c'è pure il telefono Guarda Siamo a posto Siamo Però stiamo attenti Perché Chiudi qua Il telefono Che è questo Questo cos'è Unit report Unit report Non so cosa sia Ma è messo qui piccolissimo Guarda Unit report Va bene Il telefono C'ha Sette richieste E ne può produrre Dieci di linea In pratica Può fare Dieci linee del telefono Dieci numeri del telefono Però attenzione Quindi va bene Va bene Abbiamo due punti Sapete questi due punti Non mi ricordo Il prestigio Ok Perché c'ho 39 persone Devo fare 40 Ok Quindi andiamo Guardiamo se qualcun altro Si sta lamentando Intanto io penso che si siano Tutti quanti un po' più contenti Questo è contento Questo non è contento per niente Questo qui se ne vuole andare Mettiamo un attimo in pausa Perché se ne vuole andare Rent Stuag Quindi paga troppo I lavoratori non sono felici E non hanno fatto profit Quindi abbassiamo un po' Questo Non andiamo a incidere Perché questo qui è brutto Quindi Rinnova Questo edificio Perfetto Vediamo un po' Andiamo a città 2 L'ho rinnovato Penso che si Penso che adesso Ci andrà qualcuno A rinnovarlo Ci sta andando qualcuno Non ci va nessuno Questi qua Sempre mangiano E dormono Perché non ci vanno Ok Qua Comunque abbiamo un ufficio nuovo E ci sta Perché questo qui Ah ok Ci è andato Ci è andato quello blu Vedi Stanno sistemando le cose Cosa è stato quel rumore Che ha detto Forse perché ho preso un altro punto Due punti per avere più di 40 persone E un punto From Heartwork Ed Epitenance Ok Quindi quello l'abbiamo sistemato Profitto Qual è che non ci dà più Questo qui va bene Lo sistemeremo quanto prima Quindi la soddisfazione È a posto Ma sto guardando La soddisfazione Devo guardare questo Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa Che problema Che problema c'hai questo Copy center Abbiamo avuto troppe richieste Ok Mi serve un altro copy center Come si fa Io il copy center Non so come si mette Però lo troveremo Trash Store room Transit Trash Building staff No Infrastrutture Nemmeno Sapete questo copy center Non l'avevo visto Restaurant Allocate per appartamenti For retail store Cos'è questo Retail Mi serve Build service Questo mi serve Construct business support service request Ok Mi serve un copy center Copy service Ok Questo qui Dove lo metto Dove ci sta Dimmi tu un po' Lo posso mettere qui Però qui vado a occupare tutto Se lo mettessi qui sopra Ma si dai Lo metterei anche qui Così fa prima Però questi qua sono servizi Quindi vanno giù Ok Velocità 2 Così quello va a costruire Questi qua stanno rinnovando le cose Stiamo andando bene Io direi di Più 6,90 al giorno Quindi stiamo ricevendo più di quello che stiamo spendendo Perfetto Perfetto Non mi ricordo più quali erano i miei Ricordatevi che questo qui è una Alpha Un Sì Un Un alpha Una beta Ancora il gioco deve uscire su steam Uscirà quest'estate Comunque l'ho avuto un po' prima E va bene Quindi questo qui Io ne ho messo un altro Sono tutti contenti Io farei un altro edificio Build Ok Budget Sono in positivo Va bene It's black It's a night Ok It's a man's world Stavo cantando Non mi viene in mente quella cosa Costruisci l'ufficio Non lo posso fare Decorative building Poi se la vedono loro Vorrei aggiungere qualche servizio Business support No Allora Sapete cosa voglio aggiungere? Io voglio aggiungere qualche appartamento Questo qui perché Mi dice che Vogliono un ristorante Un ristorante già ci sarà Io lo piazzo qui il ristorante Piazza il ristorante Via Era giallo Qualcosa significava Un fast food restaurant Ok No Però il fast food Non mi interessa Questi qua mi pagano quanto? 2,90 300 300 3,10 E qua 2,50 No mi riconveniva quel 3,10 Dov'è? Qua Che vuole? Acqua Anche trash bin on the same floor Sapete che qua io ho il trash bin sullo stesso floor Non ce lo posso mettere A meno che non allargo un po' qui Che non sarebbe una mali Una bruttissima idea Proviamo ad allargare A me mi servirebbe Quanto è il trash can? Metti velocità 1 Non ho gentilmente Space No Ancora devo farci la mano Comunque questo gioco Quindi sappiatolo Non sono ancora perfetto Build C'era Questo è Trash Trash Quanto è grande? Grande 2 Non è neanche grandissimo Quindi io se lo mettessi qua Non sarebbe male Lo metto proprio di fianco Quindi costruisci No costruisci Una nuova stanza Di 2 Qua Non me la fa costruire Perché non me la fa costruire? Perché devo costruire dal basso Ovviamente Ok facciamo così Così loro costruiscono questo pezzo Se ne vanno un po' di soldini Ma va bene Abbiamo allargato un po' l'edificio Adesso sapete cosa mettiamo qui? Mettiamo il trash Perché lo volevano Quindi su tutti i livelli Mettiamo questo livello Questo trash Quindi vanno a prendere la spazzatura La mettono lì Peraltro io c'ho uno della spazzatura Mi sa che non ce l'ho Quindi devo mettere un collection room Ok mettiamo Mettiamolo qui dai Ci sta tantissimo Velocità 2 E poi qua rimettiamo Quello lì da 3.10 Vai prendilo 3.10 Perfetto Sapete che facciamo? Mettiamo anche qui degli ufficetti Visto che ormai c'è questo spazio Se no che ci facciamo lì Guardate quante persone vengono Guardate quante persone arrivano Da questa Questo è il nostro edificio In pratica lo dobbiamo far fruttare Deve fare soldi Deve fare Mettiamo un po' Io avevo visto che c'era un tipo del Empty office Empty office Allocate medium Questo è medium È bello grande Potremmo anche fare un livello successivo Però io avevo visto che c'era anche delle casette Tiny Ah no sono studi Studi Allocate space for small Small one bedroom apartment Ci sono anche appartamenti Valid placement above ground Quindi qua non lo posso mettere Lo posso mettere più in alto Ok perfetto Sapete che faccio? Noi ci fermiamo qui Ci vediamo nella prossima puntata Riprenderemo direttamente di qua Anzi metto in pausa Ci riprenderemo direttamente di qua Nella prossima puntata Ciao Ciao